ciao a tutti facciamo dei tortini al cioccolato con cuore morbido facciamo sciogliere il cioccolato fondente con il buro e un cucchiaio d'acqua e andiamo ai fornelli abbiamo fatto sciogliere e teniamo da parte ora sbattiamo due uova una alla volta aggiungiamo lo zucchero mescoliamo aggiungiamo la farina mescoliamo ora aggiungiamo il cioccolato che abbiamo fatto sciogliere insieme al burro il goccio d'acqua e mescoliamo ora versiamo nei pirottini ingurati e spolverizzati di cacao amaro per tre quarti dello stampino ora inforniamo a 220 gradi per 10 minuti circa appena iniziano fare la crepetta nella cupola sfornate così otterrete il cuore morbido devono risultare così leggermente crepati